Stasera è una bella partita per noi, ha finito ancora, andiamo. Sì, sono contento, non solo per me ma anche per la squadra. Secondo tempo ho giocato una buona partita, un buon tempo, ho fatto tre gol, sono contento. Nigel è un po' male, adesso non mi sento bene, vediamo domani, io penso anche stasera o domani farò all'ospitale ma adesso non è buona.